Che sono queste cose? Boh... Tempo qua... ... 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 Questa è la qualità. Che Helios. Spettacolo. Una famiglia di festivali. Vediamo di prenderla tutta. Questa è un giro. Questa è un giro. Questa è un giro. Sono tre. Questa è un giro. Questa è un giro. Ancora uno piccolo qua, la famiglia è completa, bombetto, guardate che esagerato, mamma mamma mia, che fu, un viragat, mamma mia, che ero sidero d'arella. Mamma mia, che zamba, wow che funghi, che giornata ragazzi, funghi spettacolari, mamma mia, ancora bocciolotti. Fundaia, di Aereus, tutti giovani, uno, due, sono tartufi stamattina. Grazie a tutti. Che articoli stamattina, amici, souvenir aereus. Aereus, che qualità. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.